Io mi riferisco adesso all'inverso del tempo che ho fatto da un'invigente, il tempo di una riflessione, all'inizio di volta tra le fasi che è un'inverso di questa varia, va a trasformare la vita della città. In questa vita della città c'è il plasmico olio, e non parli voglio, ma di più a un'altra città il progetto priminale, questi signori hanno già questo senato. Se non è stato un po' di un'opera, sarebbe in completo e sarebbe stato un po' di una rega, voglio dire come è questo, ma questo è questo. Ma, 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 un giorno, un giorno, un giorno, un giorno, un giorno, un giorno, Allora così, la dottor mi sposta a quello che spessi a dentro il dirigente, il testo, io lo dico, nel corpo di l'arrivo interno, è quello che vanno. Nel corpo era già indicata, la modalità di gara, questo è un attacco di un asfalto. Ora, potete vedere il fatto che non si tratta? Come? E se ha detto, qui si tratta, il suo patimento, un'arrivo interno, un'arrivo interno, un'arrivo interno. ... e con le note che viene già, ai tempi dell'articolo ci importa che cosa vuole lettera E, che non esiste perché c'è la lettera C. Altrutto questo è l'intervento, chiaramente, l'intervento, questo è l'intervento, fanno un altro, cioè il dirigente, il presidente, l'intera valore subito, questa tipologia, è l'intervento, non la comenta a nessuna parte, non sappiamo quale stanza, ma la normazione è che si raduce. Per quanto ci riguarda, non è quale stanza, non è quale stanza, ma è lui che non diceva il consiglio del puscio del suo intervento. E così buona, venuta a nessun altro, quindi, se non è che risponde in una bella, remota di legnoidità, quindi, l'avete così per un lavoro, potesse essere approvato, la sua madre, per l'entruttore, un atto di indirizzo, si impegna, si impegna, ma giunta, potè scendere rapaciti, vedesse la città, credite che l'inferitivo impasto, subovra la città, tu presentabbene, non c'è nessuna motivazione, a chi viene l'inferiturata in June per ogni commento alla città che non incontra la pace, grazie. Allora, però, se ne la vogliamo. Un inciso anche dal tecnico, le opere di accettura più sono complesse, più sono bruttose, e meno si rischia di chiedere del fatto che fa. Questo ci dà. Un inciso anche dal tecnico, un inciso anche dal centro per rovinare il fatto che fa. Allora, allora, dopo l'intervento dell'indicente, avevo eliminato il PD da legare l'indicamento. No, 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 il PD. Non mi dite che questo possa venire. Tutti mettono una votazione. Allora, l'indicente! Allora, l'indicente! Allora, l'indicente! Non mi dite che questo possa vede anche il PD. Sì, si è venuto da due test, si è venuto da due test. No, 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 non l'avevo chiesto qui! Scusa, l'abbè ragazza di quanto me lo avevo chiesto? Allora, gli ho chiesto, gli ho chiesto di un di baglia. Mi ha chiesto, se non mi d***o, tu mi d***o. Mi d***o, mi d***o, mi d***o a voi! E' qua c'era b***o, ma sono andata! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.